In Siria la guerra non si ferma. L'esercito ha bombardato un'area a maggioranza sunnita nella provincia nord-occidentale di Banias. Almeno 51 civili sono morti. Washington afferma di avere prove sull'utilizzo di armi chimiche da parte del regime, un fatto che non rappresenta però un valido motivo per un intervento diretto come minacciato in passato. Non prevedo uno scenario in cui i soldati americani sul suolo siriano rappresentino qualcosa di buono per l'America e per la Siria. Ho consultato i leader dell'area e sono d'accordo con questa visione. Fonti statunitensi rilanciano la fondatezza delle informazioni su un raid aereo israeliano avvenuto tra giovedì e venerdì per colpire depositi di armi chimiche. Washington e Tel Aviv tacciono. Dal Libano la sola notizia ufficiale in quei giorni lo spazio aereo nazionale è stato attraversato da aerei da guerra israeliani.